Buongiorno a tutti ragazzi e amici del canale youtube e a tutti appassionati di campane come me Innanzitutto vi auguro buon ferragosto a tutti Oggi è la festa dell'assunzione di Maria Oggi ci troviamo alla chiesa di Samichel Arcangelo e Lorenzo Martire a Monte Vettolini Su questa chiesa ho fatto già ben due video Più c'è il video di Edoardo Campanaro 2008 Qui abbiamo un concerto di quattro bellissime quattro campane Le due grosse sono molto grosse ma anche le due piccole non sono male E adesso per la messa festiva delle ore 11 Ascolteremo se suona alle 10.30 dopo il battito sulla seconda il plenum E alle 11 non so cosa suona Comunque detto questo vi lascio alla suonata e con questo scendiamo dopo Come sempre A dopo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Eccole. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti.